Siamo con Andrea Panza, è l'occasione e la presentazione a Gambrinus di questa bellissima iniziativa che vede coinvolto te in prima persona ma anche altri famosi pasticceri della cultura partenopea. Ecco, ne vogliamo parlare un attimo e poi entriamo invece nel dettaglio di quello che vediamo qui. Innanzitutto sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo di pasticceri che veramente sono tra i migliori campani quindi fa molto piacere partecipare a questo evento. Adesso passiamo alla presentazione dei prodotti. Allora noi portiamo, siccome oggi l'argomento è i panettoni, portiamo il classico panettone eccolo qui, quindi con uva passa, bucce d'arancia e bucce di cedro. Noi ci teniamo tantissimo la lavorazione del panettone, fatto con lievito madre, 36 ore di lievitazione, burro, bacche di vaniglia, veramente c'è il meglio degli ingredienti per garantire al cliente il massimo della qualità e io per il panettone devo ringraziare pubblicamente il nostro pasticciere Lorenzo Pizzoferro che con grande tenacia è riuscito negli anni a raggiungere veramente dei risultati eccellenti ed è grazie a lui se io oggi rappresento qui la nostra pasticceria. Abbiamo detto però c'è il panettone classico però prima mi dicevi che ci sono anche delle varianti di questo panettone. Poi c'è il panettone al limone che è una delle punte di diamante del nostro assortimento fatto con i limoni della nostra azienda agricola Villa Paradiso, sita da Malfi a poche centinaia di metri dalla nostra pasticceria e poi siccome negli anni noi ci siamo specializzati nella lavorazione del cioccolato abbiamo il panettone scorze d'arancia e cioccolato fondente. Bene allora vogliamo anche ricordare agli amici che ci seguono dove è la vostra pasticceria e se avete magari un sito internet o qualcosa del genere per eventuali ordinazioni. Noi siamo in piazza Duomo da Malfi proprio accanto alla cattedrale siamo lì da cinque generazioni cioè da 184 anni io insieme ai miei fratelli rappresentano la quinta generazione quindi vi aspettiamo per farvi assaggiare non solo i nostri panettoni ma Panza è molto famosa per tutti i prodotti tipici natalizi quindi abbiamo un assortimento veramente da paura. Bene allora per vedere questo assortimento e soprattutto per assaggiare le loro specialità l'appuntamento è ad Amalfi con la famiglia Panza. Grazie.